I vigili sono sceati, non so cosa fare basta suonare rompete l'architettura grazie I vigili, ma che vigili siete, non sapete cosa fare non sapete cosa fare se ci siamo a cacciare ci siamo a cacciare, fate la cacciare fuori cacciamo l'arte di strada buttiamola via l'arte di strada non serve fuggito farci fuggito 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 l'architettura a volte non ti fermano a volte ti dicono di abbassare decidete cosa volete fare nel senso o ci cacciate per sempre e noi comunque ci saremo il vigile ma che vigile siete non sapete cosa fare non sapete cosa fare se ci siamo a cacciare ci siamo a cacciare fate a cacciare ma come fa in realtà pure loro sanno che questa è un po non so se si può dire la parola cazzata però loro lo sanno quindi è per questo che ci sta questa situazione e vabbè noi domani protestiamo lo stesso e saremo lì e saremo comunque sempre mesi avvi non è così non succede niente saremo sempre per strada ecco qua i vigili passano e vogliono anche cacciare a sasi delle bolle adesso però non ci stanno prima sono passati però sasi ha detto ma chi vuol dire c'è l'ha già fatica sono sceme i vigili i vigili sono sceme che sa la verità i vigili sono sceme non sanno cosa fare ciao sasi buon lavoro grazie a me hai avuto un problema il cuore? no è buon momento no ma che oggi mi hanno arrestato? oggi mi hanno arrestato non mi hanno arrestato non mi hanno fatto quando stai venendo perché non è possibile quando in qua che ci sono qui a Napoli un problema si può non un buon sapone ma non stanno c'è nemmeno assolutamente ebbene oggi vi ho vedo una camera camionata questo non mi hanno arrestato, non mi hanno arrestato la cittina che è sera allora fino a quando andremo perché non mi sposti che ti asparò oggi ma non ci sono venuti allora domani anche io vado più là anche io mi faccio arrestare i vigili sono tutti sceme so sono pensando would you say manca si stanno arrestati si stanno fa molto si stanno.. non lo so che mi ha fatto ciao cacciamo l'arte di strada buttiamo la via l'arte di strada non serve accende i guard sono malviventi questi qua